Macro categoria HR. Il premio è quello di HR Director dell'anno. Andiamo a leggere insieme la motivazione. Per confermarsi per il secondo anno consecutivo il punto di riferimento nelle politiche di valorizzazione delle risorse umane in Italia e non solo, per aver puntato su una cultura aziendale inclusiva, innovativa e flessibile, in grado di stimolare leadership, diversità e talenti attraverso programmi di formazione, hackathon e talent days. Il premio va a Giovanni Luca Perin, Generale Italia. Lo saluto e in collegamento con me Giovanni Luca Perin, Country Italian Global Business Lines Chief HR and Organization Officer di Generale Italia. Bentrovato e complimenti per questo riconoscimento. Grazie, grazie mille. Tanto grazie per il riconoscimento a tutti voi e voglio esprimere il mio ringraziamento ovviamente a tutti i professionisti della famiglia HR della mia azienda perché questa premiazione è veramente il frutto di un lavoro di squadra dove il contributo veramente di tutti è stato fondamentale soprattutto in un anno particolare come è questo che siamo vivendo. E poi sono contento che sia il secondo anno consecutivo vuol dire che come ogni buona squadra sa giocare con continuità e questo vi dà anche fiducia per il futuro. Esatto, lei l'ha detto subito un riconoscimento che è ancora più importante in un periodo nel quale i rapporti proprio tra le persone sono stati rimodulati ovviamente dalle conseguenze della pandemia ma che rimodulandolo nel modo migliore insomma ha dato i suoi frutti lo stesso. Nella motivazione così poi facciamo anche un altro ragionamento intorno a quella che è la vostra mission soprattutto per il futuro. Abbiamo sentito parlare di una cultura aziendale ovviamente inclusiva che è quello che dicevamo innovativa e flessibile in grado di stimolare tante cose. Insomma si parte da qui per andare verso il futuro su cosa state puntando ulteriormente in questo momento? Ma è chiaro che la pandemia ha portato un'accelerazione penso questo per tutti per tutti noi nel modo di operare nel modo di fare però il nostro ruolo di assicuratore in questa fase rimane centrale nella società soprattutto l'esigenza veramente di essere partner dei nostri clienti in un momento così così difficile. Ecco e su questo noi stiamo basando tutte le nostre politiche HR sostanzialmente facendo leva su tre punti fondamentali. Uno è il cambiamento dei nostri modi di lavorare, ce lo impone la situazione ma noi avevamo già cominciato prima della pandemia per esempio utilizzare lo smart working, noi lavoravamo già con due giorni a settimana di smart working ma cambiando anche dei modi proprio organizzativi introducendo l'agile, oggi tutto il nostro IT lavora con modalità agile, introducendo con forza tutta la capacità dei data analytics, degli advanced analytics nella nostra struttura anche con un'organizzazione nuova innovativa quale è quella degli hub in spoke, aggiungiamo gli hackathon, aggiungiamo i laboratori cross funzionali. Il tutto l'abbiamo trasferito in un'azienda totalmente remotizzata quale siamo adesso però mantenendo queste caratteristiche. La vicinanza col clienti è altrettanto fondamentale, abbiamo fatto formazioni molto importanti su questo nuovo punto di vista creando addirittura una scuola del cliente per le nostre persone. Poi ovviamente la digitalizzazione, quindi la necessità di upskillare, riskillare le nostre persone proprio per accrescere il valore del nostro capitale umano e far crescere molto più velocemente i nostri talenti. Ecco su questo faccio conto che noi abbiamo fatto formazione, siamo riusciti a raggiungere il 95% della nostra persone con circa un numero di ore veramente importante, quasi 90.000 ore di formazione e tutto questo lei capisce in un momento molto complesso. Altrettanta leva importante è stata data sul sistema di performance, soprattutto la performance da remoto che è un tema complesso da gestire. Qui volevo citare un'app che tra l'altro abbiamo brevettato al nostro interno, che si chiama feedback up, che lavora proprio sul feedback continuo, che è qualcosa di fondamentale quando in particolare non ci si può vedere tutti i giorni. Ecco, pensi che con questo abbiamo circa 40.000 feedback continui, cioè le persone sono date quest'anno circa 40.000 feedback fra capo e collaboratore attraverso l'utilizzo appunto della tecnologia. E l'altra accelerazione molto grossa è data dalla cultura manageriale, sta cambiando in maniera fondamentale perché l'esperienza di remotizzazione ci aiuta ad accelerare su quei percorsi che già avevamo visto di ovviamente ingaggio delle persone sui risultati più che su una, diciamo, un controllo visivo della prestazione. Fa sempre parte delle nostre politiche il tema del welfare, che è un tema per noi centrale. Oggi il nostro welfare aziendale provvede circa 70 benefit e servizi a disposizione delle nostre persone, anche qui li abbiamo tutti traslati al digitale per una fruizione diversa rispetto al passato. Faccio solo due citazioni, una è l'Energy Program, che tiene cura, diciamo, la capacità energetica delle nostre persone, sia quella fisica, ma sia anche quella valoriale e, diciamo, personale dal punto di vista psicofisico. Ecco, su questo siamo riusciti a farne una versione smart che le persone possono, diciamo, seguire oggi da casa e anche tutta l'esperienza, i touch point che l'impiegato ha oggi verso l'azienda sono stati anche questi totalmente digitalizzati, sia dall'ingresso in azienda attraverso un'app, sia per la richiesta di permessi, ferie e altre, diciamo, attività, diciamo, legate al vivere in azienda. Importante rimane il tema dell'inclusione per noi, molto fondamentale, molto importante, ci stiamo continuando a lavorare, su questo potrei citare molte cose, dall'empowerment femminile alla genitorialità, ma è molto importante anche il tema dell'accessibilità che stiamo aiutando e su cui abbiamo lavorato per tutte le nostre persone, ovviamente con disabilità, anche questo è un tema fondamentale. Il risultato di tutto ciò è la vera cartina di tornasole è che nell'ultima survey ben l'80% delle persone di generale si è detto soddisfatto di lavorare in generale stessa e questo per noi è il miglior, veramente, biglietto da visita. Certo, assolutamente sì. Beh, che cosa potrei aggiungere se non che lei ci ha spiegato assolutamente nel dettaglio tutto quello che sta alla base della vostra mission, non a caso stiamo parlando del riconoscimento HR Director dell'anno, tutto questo per andare a conclusione proprio per i saluti, il comune denominatore, insomma, che si può utilizzare per quello che lei già raccontava è proprio la formazione, formazione continua su più aspetti, no? Che accomuna, insomma, anche, anzi che rende una cosa sola tutti i punti che lei ha elencato. Direi di sì. Il tema della formazione è un elemento centrale, anche qua noi abbiamo un generale learning platform, anche questa l'abbiamo proprio digitalizzata, un'esperienza totalmente digitalizzata perché abbiamo invitato proprio le nostre persone in questa fase a utilizzare magari del tempo che può essere messo a disposizione dal fatto che ci si muove meno, si ha più possibilità anche di stare a casa per formarsi perché la loro professione è il loro valore, questo le nostre persone lo hanno capito, abbiamo avuto veramente un grandissimo ritorno a questo punto di vista. Ottimo, allora, io non posso fare altro che intanto complimentarmi con lei per questo riconoscimento, Giovanni Luca Perin, e naturalmente con tutto il team di General Italia perché naturalmente è stato un lavoro d'insieme, come sempre, poi lei l'ha coordinato e ci vuole sempre un coordinatore, però poi il team fa tutto, insomma, credo che sia d'accordo con me, visto che parliamo di risorse umane, di valorizzazione di tutto quello che ciò comporta. Ecco, possiamo concludere così. Grazie mille, assolutamente sì, un buon allenatore diciamo. Ecco, benissimo, assolutamente, va bene, poi ci vogliono anche degli ottimi atleti, però insomma il buon allenatore fa tanto, quindi grazie ancora e complimenti e al prossimo riconoscimento. Grazie a lei, arrivederci. Grazie.